Musica Secondo giorno di attività al drive-in incontra da Selvapiana volto ad effettuare quanti tamponi in più possibile il colonnello Emanuele Gaeta illustra le attività Aumentano i morti e i contagi da covid-19 in Molise salgono a 103 i decessi l'epidemia non allenta la presa l'ASREM tra critiche e consensi al lavoro per ridurre rischi Raggiunto l'accordo tra ANAS e provincia di Sernia per la messa in sicurezza del viadotto Sente sulla strada provinciale 86 impegno per una progettazione definitiva Al via la colletta del banco alimentare per venire incontro alle esigenze delle persone in situazione di forte indigenza promosso l'utilizzo delle card per evitare rischi sanitari Buongiorno a tutti, un caro saluto e ben ritrovati con l'informazione del giorno del telegiornale di TLT ed è operativo e funzionante il drive-in realizzato dall'arma dei carabinieri nella zona antistante lo stadio di Selvapiana Campobasso per alleggerire la pressione sull'ospedale Cardarelli in relazione ai tamponi Covid ma andiamo a vedere l'intervista Già molte le persone che a bordo delle loro auto hanno provveduto al tampone Covid presso lo specifico drive-in realizzato dai carabinieri del comando provinciale di Campobasso nell'antistadio Selvapiana appunto nel capoluogo di Regione Il drive-thru difesa è un progetto che fa parte dell'operazione IGEA fortemente evoluto dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini è organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa con il coinvolgimento di tutte le forze armate ed è coordinato dal COI Comitato Operativo Vertice Interforze che serve per insieme alle istituzioni locali protezione civile, ASREM e comune ha consentito di organizzare questo drive-thru La cosa importante da dire è che in questo sistema noi riusciremo a effettuare circa 100-120 tamponi al giorno alleggerendo il carico di lavoro che ha l'ASREM che ha l'ospedale Cardarelli è molto rapido, si viene in autovettura è importante ricordare a tutti i cittadini che occorre la prenotazione alla ASREM come un normale tampone non si può venire qui a effettuare un tampone in autonomia ma deve essere sempre prescritto dal medico e quindi segui la procedura e gli orari sono tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 11.30 L'impegno dell'arma è sono 5 carabinieri al giorno di cui 2 sono qui all'accettazione dove ci sono le liste delle persone che devono effettuare il tampone insieme ad un dipendente dell'ASREM e poi ci sono 3 persone 3 carabinieri che stanno nell'altro container che sono coloro che svolgono il tampone sono 2 infermieri ed un medico dell'arma dei carabinieri Avranno accesso tramite con le autovetture ovviamente non scenderanno dalle autovetture proprio per motivi di sicurezza e quindi eseguiranno ovviamente il tampone sempre dalla procedura dal finestrino questo appunto per garantire al massimo la sicurezza e l'isolamento quindi ci sarà un prientreranno ci saranno un primo step di 2 carabinieri ed un addetto ASREM che avrà appunto le liste già stabilite dalla ASREM delle persone che devono effettuare questo tampone e allo step successivo ci sarà il personale sanitario dell'arma dei carabinieri un medico e due infermieri che seguiranno il tampone dopodiché verrà quasi immediatamente trasportato al laboratorio dell'ASL dove verrà processato comunque nel giro di breve consideriamo che le risposte avverranno tra le 24 e 48 ore quindi insomma abbastanza buono come risultato e non allenta la presa il coronavirus altre vittime e contagi in aumento sale anche il numero dei ricoveri a Cardarelli di Contrada Tappino si attendono adesso le decisioni del governo regionale quello centrale in vista delle festività natalizie ma vediamo nel dettaglio non allenta la presa del contagio da covid-19 in Molise nelle ultime ore dati poco confortanti con decessi e ricoveri in aumento la situazione attuale non è delle migliori e cittadini temono sono oltre 100 i morti in questa seconda ondata in affanno anche la sanità regionale che inevitabilmente ad oggi si trova a dover fare i conti con un numero sempre maggiore di positivi a seguito della mappa diffusa dall'azienda sanitaria regionale emerge un dato significativo sono infatti 116 l'85% del totale i comuni colpiti dal virus che registrano almeno un contagiato in regione su tutti Campobasso presenta 369 positivi seguito da Isernia con 324 e Termoli con 300 contagiati il totale è poco più di 2700 intervenuti in questi giorni riguardo la situazione anche del Santimoteo di Termoli rappresentanti di Termoli bene comune che lamentano varie inadempienze da parte della macchina organizzativa le ultime notizie sulla situazione del Santimoteo infatti confermano come la rete della sinistra aveva più volte previsto e denunciano la scarsità di personale medico insufficiente e costretto a turni anche di 12 ore obbligato a lavorare con pazienti covid e non nel mirino anche la situazione del Cardarelli con la presenza di una sola ambulanza per il 118 impegnata nel trasporto dei malati covid a Campobasso per tali ragioni la rete si rivolge ancora una volta al direttore generale dell'Asra Moreste Florenzano per chiedere interventi capaci di ristabilire una condizione di maggiore sicurezza Errore nella procedura di convocazione dei candidati dunque un difetto relativo al rispetto del termine di convocazione questa la motivazione che ha determinato l'allunamento di parte del direttore generale dell'azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano alla prova scritta relativa al concorso per titoli ed esami per la copertura di otto posti di dirigente medico nella disciplina di pediatra che si è tenuto lo scorso 18 di novembre Restiamo sempre in tema di sanità la diffusione del virus cresce in Molise nelle case di riposo all'interno delle abitazioni private spesso anche per gli assembramenti all'interno dei locali pubblici l'appello ai cittadini per una maggiore collaborazione ma andiamo a vedere Informare per prevenire confrontarsi per collaborare i numeri del contagio in Molise impongono decisioni drastiche e urgenti per evitare di scivolare dalla zona gialla a quella arancione l'attuale situazione chiama in causa in regione non solo le istituzioni l'azienda sanitaria e le forze dall'ordine ma anche i titolari delle attività commerciali e la clientela soprattutto quella giovanile Oggi ho voluto incontrare gli esercenti pubblici titolari per chiedere laddove ce ne fosse bisogno una maggiore collaborazione per fare in modo di evitare maggiormente più possibili gli assembramenti Già a Trivento ho attuato delle iniziative ho intrapreso delle restrizioni decisioni con restrizioni per quanto riguarda il mercato che ormai è già da un mese che non si tiene la domenica a Trivento ho ridotto l'orario di ingresso al cimitero purtroppo ho dovuto chiudere tutti e tre gli istituti scolastici infanzia elementari e medie e adesso ho voluto incontrare gli esercenti perché il mio scopo è quello di fare in modo di sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori ma anche i cittadini ovviamente i cittadini a fare in modo da ridurre il più possibile gli assembramenti io sto facendo anche girare i nostri vigili si raccomanda la massima prudenza e l'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza quali mascherine distanziamento sociale evitando gli assembramenti sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici e delle abitazioni private chiediamo con forza e lo ribadisco con il mezzo televisivo a usare le mascherine ridurre il più possibile rispettare il più possibile il distanziamento interpersonale e gli assembramenti non soltanto nei locali pubblici ma anche a livello di case private e quant'altro perché a volte non si pensa al motivo alla cosa che si debba cercare di non incontrarci parenti e amici nelle case private è un momento difficile mi appello al buonsenso di tutti la responsabilità di tutti ripeto oggi ho tenuto questo incontro l'ho voluto fortemente ringrazio tutti i titolari degli esercizi pubblici perché sono venuti tutti e abbiamo anche interloquito ipotizzando anche delle misure qualora ci dovesse essere una escalation diciamo così dei contagi e mi appello al buonsenso ripeto di tutti i cittadini i nostri concittadini triventini ma credo che visto che è un emittente la vostra vista in tutta la regione molise penso che il mio appello possa essere utile per tutti i cittadini molisani e passiamo adesso alla cronaca gli agenti della polizia hanno arrestato un 49enne di Campomarino trovato in possesso di una sostanza stupefacente gli uomini del commissariato di Sansevero durante dei controlli sul territorio hanno fermato la vettura con a bordo il molisano segnali di nervosismo hanno indotto i poliziotti ad effettuare una perquisizione così gli agenti hanno scoperto che sotto la mascherina aveva 10 grammi di eroina l'uomo è stato anche multato per aver violato le disposizioni relative al DPCM e la polizia di Zernia nel corso dei controlli ha fermato una ragazza trovata in possesso di una dose di marijuana una seconda è stata invece fermata nella sua auto e aveva nascosto alcune dosi della stessa droga pronte per lo spaccio e altre poi ritrovate anche all'interno della sua abitazione insieme alla somma di denaro contante di poco più di 2700 euro un bilancino di precisione la prima è stata segnalata per la violazione amministrativa mentre la seconda è stata denunciata per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti a resistenza al pubblico ufficiale e ci spostiamo adesso nella zona pentra i vertici della provincia di Sernia e dell'ANAS hanno siglato la convenzione che dà il via alla progettazione degli interventi per il ripristino del viadotto Sente di collegamento tra l'Abruzzo e il Molise ma ascoltiamo il presidente della provincia di Sernia Alfredo Ricci e il dirigente dell'ANAS Matteo Castiglioni hanno posto la loro firma sotto il documento di convenzione che lancia la progettazione dei lavori per la rimessa in servizio del viadotto Sente l'opera di collegamento tra i territori di Abruzzo e Molise non più percorribile dal 2018 La progettazione riguarda il viadotto nella sua interezza vista la sua importanza e la sua strategicità all'interno del territorio molisano ANAS per il momento con questa convenzione si fa carico di tutte le attività progettuali poi una volta completato il progetto e valutati gli interventi da farsi valuteremo con la provincia con quale modalità procedere per avviare i lavori di apertura dell'opera È uno step importante sicuramente perché noi andiamo a sottoscrivere una convenzione che consentirà alla provincia di avere nell'arco di dieci mesi una progettazione esecutiva da porre a base di gara soprattutto avviamo una collaborazione importante con ANAS che vuole andare nella direzione di un passaggio ad ANAS del viadotto Sente ma soprattutto di un reperimento delle necessarie risorse per eseguire i lavori e questa è la vera sfida che io ho preannunziato nelle scorse settimane e che oggi viene lanciata ufficialmente durante questi dieci mesi in cui ANAS lavorerà la progettazione definitiva e poi esecutiva dell'opera tutti dovranno impegnarsi per reperire le risorse necessarie per eseguire i lavori ANAS ha stimato 24 milioni di euro per eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'intero viadotto Sente io sono convinto che come nei mesi scorsi c'è stata una collaborazione a livello istituzionale e politico da parte di tutte le autorità che in qualche modo hanno competenza in materia da parte di tutti i gruppi politici della nostra regione nello stesso modo ci sarà una forte collaborazione un forte impegno corale per raggiungere questo risultato e la guardia di finanza di Campobasso nel corso dei controlli sugli autobus ha arrestato un uomo di nazionalità nigeriana per spaccio di sostanze stupefacenti la conseguente perquisizione anche in casa ha permesso anche un altro sequestro di droga denaro contante un bilancino di precisione rinvenuti poi circa 200 grammi di stupefacente destinato allo smercio nel capoluogo e vicino e vicino alle stanze della gente molisana crescono anche i consensi politici nel movimento di fratelli d'italia un partito che si fa largo nel centro-destra ma andiamo a vedere il contributo con l'ultimo ingresso della consigliera regionale di prima il molise aida romagnolo nel partito di fratelli d'italia molte scelte politiche dell'attuale governo regionale a guida centro-destra potrebbero essere riviste con il sostegno del coordinatore Filoteo Di Sandro con gli inserimenti di Michele Iorio Massimiliano Scarabeo e della stessa romagnolo il movimento della melone ha le carte in regola per candidarsi in Molise ad essere il primo partito del centro-destra il partito è molto attivo nella nostra regione è il terzo consigliere regionale che aderisce al nostro partito siamo molto soddisfatti siamo molto soddisfatti perché aida innanzitutto è una donna e quindi arricchisce con la sua personalità il nostro partito è un consigliere regionale conosce molto bene le problematiche del territorio è sempre schierata dalla parte dei più deboli e ha portato sempre in consiglio regionale le battaglie vere quelle del popolo quelle della della gente ecco noi speriamo che con questo nuovo ingresso insieme a tutti gli altri si possa fare un gioco di squadra per aiutare il nostro territorio il nostro Molise a uscire da questa grave difficoltà in sede di presentazione a Termoli non è mancata una stoccata all'assessore regionale Quintino Pallante sostenitore dell'esecutivo Toma Palazzo Vitale che in pochi ricordano in Fratelli d'Italia ma vicino all'ex presidente della regione Paolo Frattura nel 2011 sulla sponda opposta e torniamo adesso a parlare di salute all'istituto Neuromed di Pozzili l'edizione 2020 della notte dei ricercatori che si svolgerà attraverso i canali internet domani le visite virtuali ma vediamo come visita virtuale domani degli studenti Molisani Campania ai laboratori del centro di ricerca Neuromed da Pozzilli l'edizione 2020 della notte europea dei ricercatori quest'anno non si potrà svolgere in presenza ma in ogni caso la scienza si conferma uno degli attori principali del modello di futuro che vogliamo disegnare per il pianeta per questo motivo il cammino della ricerca scientifica non può arrestarsi neanche nei mesi della diffusione del contagio sanitario la notte del Neuromed diventa quindi virtuale in modalità online dalle 9.30 alle 11.30 i ricercatori in Neuromed si alterneranno per guidare gli alunni in una visita nei laboratori per esporre le ricerche in corso su come costruire e disegnare il futuro se è vero che senza scienza non c'è progresso è altrettanto vero che senza cultura non c'è confronto e nessuna possibilità di migliorarsi ha affermato Mario Pietracupa presidente della fondazione Neuromed il messaggio dall'istituto di Pozzigli è il metodo scientifico attraverso prove vere e ripetibili nel comune di Campobasso dove in concomitanza con la settimana europea per la riduzione dei rifiuti ha lanciato la campagna di sensibilizzazione sulla qualità dell'acqua della rete pubblica mirata a contrastare la produzione di migliaia di bottiglie di plastica e i risultati delle varie analisi condotte confermano l'eccellenza della stessa ha detto l'assessore all'ambiente Simone Cretella la città è rifornita da tre principali linee di approvvigionamento idrico l'acquedotto molisano destro Biferno e dalle sorgenti comunali Monteverde e Foce ed è costante l'impegno della cooperativa Bifrini nella rete delle tutele delle donne sempre più protagoniste dei fatti di violenza perpetrata ai loro danni l'esperienza in Molise attraverso una delle collaboratrici l'avvocato Lena Fusco ascoltiamola è sempre più indispensabile nell'ambigua e contraddittoria società odierna trovare i percorsi di tutela per le tante troppe donne vessate e colpite spesso nei loro ambiti familiari attraverso una violenza che sembra essere ormai una prerogativa anche della nostra cosiddetta moderna civiltà l'esperienza in Molise di una cooperativa sociale la Bifri che opera nell'intero territorio regionale il centro antiviolenza Bifri è un centro antiviolenza pubblico che copre a livello regionale appunto tre città quindi tutto il territorio regionale si inserisce in un sistema pubblico con capofila l'ambito territoriale sociale di campobasso e per questo appunto noi riteniamo che sia una presenza importante benché di recente istituzione sono quasi cinque anni che esiste in Molise il centro antiviolenza e una casa rifugio però possiamo come dire parlare di un punto di forza del centro antiviolenza Bifri perché è un centro antiviolenza che affonda le radici nei centri antiviolenza storici che esistono in tutta Italia Bifri gestisce per l'appunto centri su tutto il territorio nazionale ed è un centro laico femminista appunto storico perché c'è un approccio alla violenza sotto un punto di vista strettamente culturale un punto di vista sociale antropologico non parliamo quindi di operatori che operatrici anzi perché il personale deve essere assolutamente affemminile nel rispetto della convenzione di Istanbul appunto non parliamo di personale improvvisato ma di personale formato atto ad accogliere le donne in una situazione di pericolo ma anche di orientamento rispetto alle vicende che stanno che stanno vivendo senta la situazione molisana com'è? quello che è stato registrato in Molise è assolutamente in linea con quello che è stato registrato a livello nazionale BFRI ha continuato a operare anche con modalità diverse rispetto al passato in ogni caso in collegamento con le forze dell'ordine e comunque abbiamo operato H24 abbiamo registrato anche un incremento da un certo punto in poi parlo appunto del periodo del primo lockdown delle richieste di aiuto che chiaramente sono emerse in modo molto più preponderante proprio perché le donne si sono viste costrette diciamo in un contesto familiare di chiusura a subire forse anche in modo più amplificato i maltrattamenti e le violenze che già subivano da tempo e al via la colletta alimentare per sostenere le famiglie e i cittadini che si trovano in situazione di bisogno in Molise online e nei supermercati le card che saranno trasformate in cibo per i bisognosi ma andiamo a vedere come l'emergenza causata dal diffondersi del covid-19 non ferma l'attività di beneficenza della colletta alimentare anche per quest'anno la macchina organizzativa prosegue la sua missione per aiutare chi soprattutto in questi mesi si trova in forte situazione di bisogno e disagio sociale questo sabato parte la campagna del banco alimentare chiunque volesse contribuire a donare anche pochi euro per donare cibo ai bisognosi fino all'8 di dicembre potrà acquistare anche online sul sito www.collettaalimentare.it o nei supermercati aderenti le carte da 10-5 euro a fine colletta il valore complessivo di tutte le carte acquistate sarà poi convertito in cibo non deperibile come pelati legumi alimenti per l'infanzia olio pesce e carne in scatola e altri prodotti che servono maggiormente e che sarà subito distribuito agli indigenti assistiti mediante una rete di enti convenzionati i tagliani elettronici prendono quindi il posto degli scatoloni e diventano i contenitori della spesa una spesa che quest'anno non può essere donata fisicamente per ragioni di sicurezza sanitaria poiché il passaggio di beni di mano in mano sarebbe troppo rischioso Antonio Dionisio presidente del Banco Alimentare Abruzzo e Molise commenta positivamente la trovata e dice stiamo assistendo ad una buona risposta da parte di tante persone che stanno acquistando le card quest'anno in particolare si conta molto sul passaparola indispensabile per far conoscere la nuova modalità di un gesto storico che si ripete che aiuta chi si trova in forte difficoltà e andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo cielo soleggiato nella prima parte di oggi sul Molise dalla sera sulla regione debole nuvolosità in transito temperature previste tra i 7 gradi di Campobasso e la massima di 14 a Termoli ventilazione debole di direzione variabile quasi calmo l'Adriatico centrale domattina ampi spazi di cielo sereno valori atmosferici in leggero aumento correnti meridionali sul litorale una lunga scia di infortuni non permette alla Magnolia Campobasso di dimostrare le sue qualità di gioco nella partita valevole per l'ottava giornata del campionato di basket femminile di A1 le molisane cedono così il passo al Bologna ma ascoltiamo una partita ostica sia dal punto di vista della tattica ma anche dal punto di vista pratico per via di una lunga scia di infortuni si si era difficile lo sapevamo sia per la situazione dell'infermeria sia per il valore della squadra avversaria che lotterà alla fine per qualcosa di importante però io devo elogiare la mia squadra le ragazze che hanno giocato con le rotazioni che erano al minimo però le ragazze hanno dato veramente tutto hanno fatto quello che avevamo chiesto ci voleva una partita quasi perfetta per poter cercare di non perderla in questa maniera perché ripeto era complicato però abbiamo avuto un inizio di terzo o quarto non dei migliori e loro subito ci hanno punito però poi alla fine questa squadra ha lottato fino alla fine dal punto di vista della sua visione la partita è stata complicata però la squadra ha voluto comunque dire la sua in campo Sì 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 ma io ho una squadra sotto questo punto di vista che veramente è fantastica stiamo lavorando da settimane in una situazione di emergenza in allenamento pure le ragazze non si tirano mai indietro danno tutto quello che devono dare è normale che nel momento in cui hai un crollo anche un po' fisico e anche mentale perché non è facile tenere l'asticella alta per tutta la partita la squadra come Bologna ti punisce e prendi subito 30 punti che alla fine poi cominciano a pesare ancora di più sull'aspetto mentale però ripeto devo fare complimenti alla squadra e sono orgoglioso di queste ragazze Secondo lei senza questi infortuni avremmo potuto vedere un'altra partita? Sicuramente si avrebbe visto un'altra partita e sicuramente questa squadra se non avesse tutti questi infortuni e se avesse la squadra al completo potrebbe fare credo cose importanti però oggi oggi la situazione è questa dobbiamo uscire nel prima possibile lo staff medico che ringrazio sta facendo di tutto per mettermi a disposizione tutte le ragazze il prima possibile quindi dobbiamo solo avere la serenità di continuare a lavorare aspettando di essere al completo un'ultima domanda che cosa si prova a giocare una giornata del campionato di Serie 1 il basket femminile in una situazione del genere? Beh non è bello non è bello purtroppo manca qualcosa manca lo sport a noi manca a tutti perché lo sport senza pubblico è qualcosa che non siamo abituati a vedere è qualcosa di brutto sia per il pubblico che non può vedere la propria squadra e sia per le ragazze non possono sentire il calore del pubblico poi il nostro pubblico è un pubblico fantastico quindi questa mancanza la avvertiamo ancora di più perché è stato sempre il nostro sesto uomo in campo però anche su quello bisogna appazientare dobbiamo superare questo momento particolare e al più presto speriamo di riavere tutto il nostro splendido pubblico Ed è molto probabile che la squadra del CUS Molise resterà lontana dai campi della Serie A2 di calcio a 5 e non disputando partite difficili per qualche altra settimana la diffusione del virus nell'organico degli universitari ha fatto sì che per questa settimana gli allenamenti siano stati sospesi al palaunimol di Viale Manzoni in attesa del secondo tampone al quale atleti allenatori e dirigenti contagiati dovranno sottoporsi per verificare lo stato di salute e con questa notizia sportiva conclude qui l'edizione del giorno del telegiornale come sempre io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata arrivederci e vi auguro vi auguro Grazie per la visione!